Potrebbe essere una foto, intanto per loro, più che per me, perché sono un po' di rispettura, sono un po' di rispettura, è un po' di rispettura veramente. Esatto, veramente bravo. Dopo Cinzia si trarà una cosa bellissima, anzi direi che è bene, lo dica subito, lo siamo a subito di rispettura. Grazie. Abbiamo una società che è nata grazie alla cultura e alla ricerca, quindi abbiamo deciso di contribuire ad aiutare i ragazzi soprattutto per continuare lo studio e per continuare tutto quello che vogliono fare da grandi. Quindi prendiamo come il nostro il motto di questi giorni che è uscito sul giornale e il coraggio non trema, anche perché si può iniziare soprattutto la giornata. Grazie al pervento degli imprenditori che operano appunto nel silenzio ma che meritano poi un momento anche di attenzione da parte della nostra platea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.